Quindi bisogna rimanere sereni, oggi comunque abbiamo guadagnato un punto in classifica sul Bologna, abbiamo tenuto l'Atalanta 11 punti, non scordiamoci che il nostro obiettivo è quello di arrivare nelle prime 4, non mancano 10 punti. Siva alla vostra, ha recuperato un punto sul Bologna, l'Atalanta è rimasta indietro, Boniperti, vincere non è importante l'unica cosa che conta, aggiornati caro mio, e qui abbiamo cambiato motto, cin alla vostra. Mannaggia. Inizio così questo lunedì ragazzi, con un pizzico di ironia, permettetemelo, concedetemelo, ma se non iniziamo a prendere almeno un po' le cose sul ridere qui, non ne usciamo, perché la Juventus è in una crisi neanche nera, è in una crisi di più, c'è più del nero, c'è qualcosa di più nero del nero, ecco perfetto, siamo lì, focalizziamoci su quella roba lì. Buon lunedì, quello di oggi sarà un video molto molto lungo, in cui diremo tante tante cose, e voglio partire da quello che è stato lo striscione della curva per celebrare Allegri. Io vi dico che per me sinceramente è una cosa che ci sta, è una cosa anche bella per quanto mi riguarda da parte dei tifosi della Juventus, perché la storia di Allegri, mille più punti, è giusto celebrarla. È una cosa fantastica, forse irripetibile. Ecco, così come è storia, secondo me, la permanenza di Allegri alla Juve, perché è ovvio che se dobbiamo prendere la carriera di Allegri, una carriera di livello con tanti punti, tanti trofei, tanti successi, la carriera di Allegri negli ultimi tre anni invece è una carriera molto mediocre, è una carriera in cui i risultati sono sempre quelli minimi e in cui dal punto di vista del campo ci sono sempre degli alibi per nascondere un po' quello che sta succedendo. Quindi, insomma, non è proprio il meglio. Lo stesso Allegri tra l'altro se l'è anche un po' presa con i tifosi dello stadio, dicendo che non hanno aiutato la squadra nel momento di necessità perché hanno fischiato alla fine del primo tempo. Io sono dell'idea che il tifoso che fa lo stadio, paga il biglietto, può fare quello che vuole, se vuole applaudire fa l'applauso, se vuole fischiare fa un fischio, perché è il suo diritto farlo. E in un momento così delicato, se la Juventus non trova sicurezze o comunque certezze nel giro di sette partite e quindi nel giro di più di un mese, io credo che sia anche giusto far capire che non si è contenti, non si è soddisfatti. E ve lo dice uno che domenica prossima ha intenzione di andare a vedere la Juventus con Genoa. Sto cercando di capire se ho la possibilità di farlo, se riuscirò effettivamente a trovare i biglietti, perché ho comunque necessità, voglia di andare allo stadio, quest'anno non ci sono ancora andato e dato che domenica si gioca alle 12.30 mi piacerebbe farlo, mi piacerebbe portare anche la mia ragazza, all'interno di un contesto molto difficile e lo sappiamo, è un contesto molto molto difficile. L'altra sera hanno fischiato anche i tifosi del Real Madrid in Champions League contro un Real che ha vinto la Champions due anni fa e che in Liga sta comunque andando molto bene, se i tifosi non hanno diritto di esprimere il proprio dissenso in una situazione in cui le cose non vanno bene, ragazzi, secondo me stiamo un pochino andando oltre, perché è giustissimo che il tifoso faccia capire di non essere soddisfatto, paga il biglietto e ha diritto di farlo. Ironia a parte sulle dichiarazioni, non ci stanno, non ci stanno, io ve l'avevo detto anche nel video post partita, quello a caldo, avevo un po' scherzato su sta roba, poi però queste dichiarazioni sono andate davvero in onda, ai microfoni di Dazon, abbiamo allungato un punto su Bologna e addirittura abbiamo fermato l'Atalanta, l'abbiamo lasciata a meno X, cos'è, meno 11, non mi ricordo. Ragazzi, siamo la Juventus, cioè più di dire siamo la Juventus io non so come rispondere a questa roba qui, perché matematicamente, parlando semplicemente in maniera matematica, questa roba è vera, certo, abbiamo allungato un punto su Bologna, certo, abbiamo lasciato l'Atalanta, certo, è qualcosa di positivo, però ragazzi serve anche un po' di orgoglio, serve un po' di orgoglio, perché, ripeto, l'unica risposta che posso dare è siamo la Juventus, perché qui c'è ancora gente che mi scrive e ma cosa doveva fare, vincerlo Scudetto? Ragazzi, ma non lo so, nell'ultimo mese avete dormito, siete andati a fare una bellissima crociera e siete tornati oggi e non sapete, non siete stati aggiornati sui risultati, ma state vedendo quello che sta succedendo a questa squadra. Poi è ovvio che Allegri stia difendendo il suo operato, è logico, ed è logico che sia così nel gioco delle parti. Lui ha tutto il diritto di dire quelle robe, così ho tutto il diritto di dire che trovo disgustoso esaltare questa roba qui, a maggior ragione si è andato a fare un confronto, perché l'anno scorso la Juventus aveva 59 punti a questo punto della stagione, la 28esima giornata, quest'anno era 58, ha un punto in meno rispetto all'anno scorso, ha un gol subito in più, ha subito i 23 contro i 22, ha fatto due gol in meno, 46 contro 44. L'anno scorso è stata una stagione in cui a gennaio si dimette il CDA, presidente, vicepresidente, tutti, reparto sportivo, reparto tutti, dimissioni, penalizzazione, meno 15, più 15, meno 10, più 10, ricorso, non ricorso, sentenza, non sentenza, e in più avevi le coppe in settimana dove eri già stato eliminato dalla Champions, fatto il girone peggiore di Champions della tua storia, è arrivata in Europa League, preparata, la partita in Europa League, preparata ogni settimana, è giocata ogni settimana, quindi con anche l'intermezzo, in questo momento siamo peggio dell'anno scorso, non si sta neanche migliorando dal punto di vista prettamente del rendimento, non voglio nemmeno parlare dello sviluppo, il gioco, la qualità, i giovani, rendimento, banalmente rendimento, oggi siamo meno dell'anno scorso, in una stagione in cui non si poteva parlare di sport perché c'erano altri problemi, allora già questo è molto grave, già questo è molto grave, è la prima volta, diceva Giuseppe Pastore su Twitter, che la Juve di Allegri subisce almeno due gol per quattro partite di fila, prima di questo dobbiamo tornare indietro al 92-93 con tra pattoni in panchina, io ci sono nato nel 92, faccio 32 anni a luglio, è 32 anni che la Juve non subiva almeno due gol a partita per quattro partite di fila, non ho avuto voglia di sviscerare i numeri di Allegri dal punto di vista dei gol fatti e gol subiti, ho una tabellina a qualche parte su Drive, me la devo andare a prendere fuori e aggiornare, ma sicuramente con i risultati delle ultime sette non è una tabellina che ho piacere di andare a vedere, però pian piano magari in settimana avrò modo di metterci le mani. E allora oggi voglio parlarvi di quello che secondo me è il problema della Juve, la Juventus ha un macro problema, la madre, il padre, i genitori, il problema più grande della Juventus è questo, è il risultatismo assoluto, non il risultatismo, il risultatismo assoluto. All'epoca era, si vince? Benissimo, non c'è un altro modo se vinta ok, e io sono risultatista, e per me quando uno vince ha ragione e può parlare, però attenzione, non significa che in un altro modo non si sarebbe potuto vincere, la Juventus dei nove scudetti di fila avrebbe potuto vincere anche in altri modi, non c'è un modo solo di vincere. Poi, la Juventus ha vinto? Benissimo, ha fatto quello che doveva fare, ma non significa che in un altro modo non avrebbe potuto farlo. Oggi il problema invece è il risultatismo assoluto e minimo, minimo, e lo so che dà fastidio questa parola, un dinamico, questo aggettivo, è una roba che dà fastidio, perché Allegri continuano a parlare di qualificazione Champions come se fosse la panacea, la cura per tutti i mali, no? Arriviamo in Champions, allora puoi pareggiare le prossime dieci, tu fai dieci punti nelle prossime dieci, arrivi a quota, cos'è, 68, benissimo, magari tu arrivi anche in Champions con 68 punti, magari ci arrivi, può essere, perché secondo me, per come si è strutturato dietro e allungare un punto su Bologna, lasciare dietro l'Atalanta e quelle robe lì, puoi anche arrivarci. Però, ripeto, siamo la Juventus e, ripeto, serve anche un po' di grinta, serve anche tirare fuori quel fuoco per valorizzare un po' quello che deve essere la Juve, perché, ragazzi, poi bisogna chiedersi, no? Ok, pareggio le prossime dieci, arrivi in Coppa, ho fatto bene? La risposta non può essere sì, la risposta è no, perché dal punto di vista economico, dal punto di vista dirigenziale, dal punto di vista finanziario, ti qualifichi, bene, prendi i soldi, bene, la percentuale sul fatturato del 20% della Juve, soldi che servono perché i giocatori devono giocare lì e poi devi far mercato, benissimo, ci sei, però poi dal punto di vista sportivo, dal punto di vista emotivo nei tifosi, dal punto di vista della crescita della squadra individuale, è migliorato? No! Magari è semplicemente cambiato ed è andato a peggiorare il campionato, anche perché negli ultimi tre anni la quota Champions si è abbassata, se andiamo a vedere le stagioni e andiamo a prendere banalmente i punti di quelle che sono arrivate in Champions, se andiamo a prendere le ultime tre classifiche di Serie A, la quota Champions si è abbassata, e quindi poi cosa significa? Che quindi hai fatto bene te? No! Significa che il campionato è diventato più mediocre e ti dà la possibilità, con meno punti, di raggiungere determinati obiettivi. Nell'anno di Pirlo, che non è stato un bell'anno, che la Juventus arriva in Champions, l'ultima giornata per il rotto della cuffia, per un miracolo la Juventus chiude a 78 punti, così come il Napoli chiude a 78 punti, arrivano a pari punti e la Juventus ha, non mi ricordo se scontri diretti o differenzareti, quello che è maggiore del Napoli arriva in Champions. È stata una bella stagione? No! No! Quindi, cioè, togliamoci dalla testa questo risultatismo assoluto, è minimo, è minimo. In tanti mi dicono, Luca, ma tu sei così sicuro che mandandovi allegri, prendendo un altro allenatore, le cose andranno meglio? E io vi dico, no! Non sono così convinto. Non ho certezze di cambiare allenatore ed avere un miglioramento. non lo posso sapere. Qualcuno mi dice, la squadra deve essere modificata, deve essere migliorata. Certo! Non dico che non sia così. Però, una certezza ce l'ho, che in questi tre anni siamo andati così. Il rendimento è lo stesso, addirittura peggiore in questo momento rispetto all'anno scorso, dove di campo non si poteva parlare per forza di cose. Quindi posso avere in mente una strada migliore per provare, per sognare, per avere l'istinto di dire sai che forse però le cose possono non andare anche così, ma possono anche nel caso eventualmente un'arrivata possibilità andare meglio. Posso provare una strada diversa? No! Devo accettare che sia così, devo continuare su questa, devo dire va bene, guarda, è così, bisogna fare così, e allora benissimo, mi accontento. Posso provare a dire cavolo, se per tre anni siamo andati così e non siamo andati bene, posso provare a dire che può succedere qualcosa di migliore oppure no? Devo dire zitto, muto, vai allo stadio, fai gli applausi, esulta, festeggia il punto guadagnato sul Bologna. Oh ragazzi, questa roba qui è fascismo, eh! Oh! Io sono libero di esprimere le mie opinioni, sono libero di essere in disaccordo, sono libero di essere triste se la Juventus non raggiunge determinati risultati, sono libero di sognare che la Juventus possa tornare a fare la Juventus, posso essere libero di sognare che la Juventus possa migliorare a uscire da questa situazione mediocre. Posso? Sono libero di farlo? Sì, la risposta è grandissimamente sì, grandissimamente sì. Poi io sono dell'idea che uno possa difendere il proprio operato quando si vince, però poi quando non si vince e non ci si va nemmeno vicini a vincere, perché non conta niente essere arrivati a febbraio a due punti dall'Inter, conta, meno di zero, quindi quando non si vince e non ci si va nemmeno vicini bisognerebbe stare zitti in silenzio e a lavorare. Come dice sempre lui tra l'altro, eppure invece parliamo, parliamo e a volte parlando si peggiorano anche le situazioni, perché noi abbiamo sette giorni liberi a settimana per preparare la partita e prepariamo il nulla. Le ultime due partite abbiamo giocato contro Napoli e Atalanta che hanno avuto o i recuperi di Serie A o le coppe in mezzo e si sono comunque dimostrate squadre che sono riuscite a portare a casa il risultato anche se sono state squadre non irresistibili e allora a maggior ragione se dall'altra parte ci sono state squadre non irresistibili perché l'Atalanta e il Napoli non sono state irresistibili e comunque tu non hai portato a casa i tre punti devi stare zitto zitto in silenzio lavorare e mettere in discussione quello che è l'apporto l'approccio e non solo per questo filotto ma per tutti e gli ultimi tre anni perché sono stati tre anni terrificanti e anche in questo caso esistono le categorie